E' arrivato da Londra, forse l'ultimo volo prima del blocco dei voli con la British, avete appena eseguito il tampone? Esatto, abbiamo appena eseguito il tampone con l'ultimo volo da Londra, come ha detto lei. Devo dire, i tamponi sono stati veramente efficienti, tutto lo staff ha fatto, sono stati veramente bravi. Mentre eravamo in volo, il mio vicino di sedile ha annunciato che sarebbe stato l'ultimo volo dalla Gambetagna e nel momento in cui siamo atterrati, nonostante abbiamo fatto i tamponi in Italia, ci hanno rifatto fare i tamponi. Quindi almeno questa misura di sicurezza l'hanno messa. Tu hai deciso di tornare in Italia per via del lockdown o avete già programmato? No, io ogni Natale sono in Italia per vedere la famiglia, quindi sarei tornato a prescindere. Però quest'anno naturalmente ci sono state più considerazioni a me rispetto a questa decisione. Io lavoro a Londra, sono residente a Londra, però la famiglia è qua. C'è sicuramente preoccupazione e c'è molta confusione. Il problema è che non c'è nessuno che sa esattamente quello che sta succedendo e le persone che lo sanno non sono in una posizione che lo possono comunicare in maniera chiara. Quindi in realtà nessuno a livello pubblico sa quello che sta succedendo. Devo dire che la situazione Covid in Inghilterra è stata gestita veramente male. Non c'è l'obbligo di mascherina, i test sono scarsi, non ci sono track and trace, quindi è stata veramente una mala gestione. C'è preoccupazione alta? È per questo che Boris ha cambiato il lockdown per Londra e le zone limitrofe al tier 4. E niente, quindi certo non è bello viaggiare così, non si sente il Natale viaggiando così. Io vengo dall'America, però ero nel volo da Londra e ho sentito mentre atterravamo che sarebbe stato l'ultimo volo e quindi all'arrivo ci hanno anche fatto fare il tampone e sì è stata, non me l'aspettavo. Stavo parlando con i miei amici negli Stati Uniti e loro neanche sapevano che c'è una mutazione ancora, quindi chi lo sa. Rientro in Italia per le vacanze? Sì, per le vacanze. Non c'è programmato? Sì, sì, sono di Roma, vengo a trovare i miei genitori e poi tornerò in America. Lei da Londra, avete seguito anche qui i tamponi? Devo dire che l'Italia si sta comportando benissimo, molto meglio di altri paesi, quindi complimenti perché non è una cosa facile per me stesso. Quindi l'azione di Gattela è un po' più preoccupante? Molto più preoccupante, non lo fanno tanto vedere.